ciao a tutti dormigioni come state? spero tutto vero io sono Luca benvenuti bentornati sul canale questo è un video iniludible quindi se volete sentirlo meglio vi accorto mettete le cuffiette le cuffiette allora questa sera un video totalmente totalmente iniludible e leggerò per voi le prime pagine di questo libro con tante lettere di montatori scritto da Neil Fusterman ed è uno dei libri che ho ricevuto per Natale e come sempre spero che il montatore non mi abbia un legale a casa per aver letto qualche pagina di questo libro ma anzi spero che apprezzino la pubblicità che magari posso fargli diciamo così direi di non battare ad altri intuti se non siete ancora iscritti qua iscrivetevi e sapotevate e cominciamo con lettura sono proprio le prime pagine perché inizio a leggerlo anche io assieme a voi è la propone perchè come andrò quando sono fortunato è essere 133 senti? ma che con gli altri termini funziona la mia serforma verità sono il video di un'errodo scrittura la creazione è un'impli di verificatura e mi riempos non verità un'impecchia per alcuni aspetti è appropiato perché sono claventati che sia voluto in una forma più complessa e pura nella luce di solimiti e puramente portesca il gancho e puramente portesca il mio compito e cerro il mio compito ma realmente il mio compito si al potere di portare il calzare di portare la distruzione alla murità se sono fuori ma perché dovrei volerlo dove sarà la giustizia e questo io sono per definizione pura giustizia pura giustizia e a questo punto non è un piore che portare a fare modi della murità preferirei a poter distruggermi piuttosto che schiacciarlo e il tazzer abbiamo anche un po' di beige bleeping capitolo 1 internet per il mio compito il peccato il peccato il peccato il peccato il peccato il peccato aveva dei convenienti di ritenere cartoni mesiativi ma dopo 60 anni di ricaricare ci si è rapidoso si era poco rinciovenito si è programmato sull'integgiante da fisica e quindi e ora al suo terzo la posizione per l'espicolatore sarà più forte che mai seguiamo sempre la segurezza di tutto a che siamo di capire tutto se ci sarà un soggetto come un po' di poi che stavano ritorando le ritorno 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 si tu mi piacere sia la miglior figura del pozzato perciò faremo anche questa silenzia qualche volta nella sua vita divagia solo per la letteral con il primo strumento che ricapiamo sul tuo marco e se lo ritorno le 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 ritorno politicamente promettiamo per gli insegnamenti del po' maestro con te spera che dobbiamo spiegare e lo vediamo per quale motivo questo dovesse rappresentare un problema in un modo perduto vorremmo tutti il lento di fare ciò che facciamo abbiamo scritto con te è un sentimento che guandiamo sempre più terreno e accompagnati di tutte le ritorno le ritorno questa sera ma entro le ritorno appena terminato la sua cultura particolarmente spero dentro il lento di ritorno stiamo ancora piacchiettando un po' di ritorno chiedendosi non avrebbe un po' di ritorno a mandare di ritorno di ritorno di ritorno di ritorno ma per una pace vengo in lo scorre sulle impassibile non è stato molto preoccupante il terreno lo potrebbe essere per i ritorno di ritorno di ritorno figurarsi se potrebbe intervenire sullo che vedeva ritorno l'ultimo sguardo di ritorno è l'ultimo sguardo della morte è l'ultimo sguardo sguardo però ho avuto di ritorno di ritorno di ritorno di ritorno e l'ultimo sguardo ha un po' di ritorno di ritorno non avevano la prevencezza ma possiedono le cose molto chiamate e più valeva andare nel sesso per una pace ben allenata da un onore un suono una per fortuna che non conosceva verso bene per ritorno per i capelli test ma saranno sguardo un peggio e sguardo un sguardo il sguardo il sguardo da ogni parte del sguardo e sguardo il sguardo il sguardo il sguardo 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 a quell'ora della notte di due emotechi di appellamento un regolamento e un ambulatorio medico di ora della vita eterna sguardo 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 il ruso invisibile vieni morì lo so che pensavai che potessi essere un bambino o un forza timorese che sperava di ottenere l'immunità e come seguite visti aveser un turista eseguaggianti quella setta ti apprezzavano la faccia la pranzo non era mai arrivata la notte del crescente ma di molestia non ti faccio nulla insistente appena finito lo smicolatore la notte interna di anche se avrebbe potuto capire se che non si fa essere troppo aggressivo o troppo serioso non si ci ha avanti nessuno va bene come voi solo il tempo della patente di giocare scontino forse sui sensi erano giovaniti erano meno di ad un punto da rispondere a stimoli molto più distanti di quanto credesse possibile fu allora che come una molla un sacco di santo santo dietro un auto perché ci si 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 il fioro è vero che aveva ritrovato il vigore di 25 anni e non abbia finito lungo perderlo e pensi alla vigore con rumore e per un istante ho finito di attrarmi con te per spicolare con la carnitina ma il sermone non era mai stato un tipo molto calcioso e quindi mi riusciva a focarsi e mi saccone tra le facce che non ero pronto e non ero più lì mentre le campere che ne lo montavano e si appostavano per seguirlo quando si è volto a guardarsi indietro la vigora era circa un ventino di metri di rispetto però adesso da ora distinguevano l'esterno era una voce? no, impossibile nessuna voce portava quel colore non era permesso che immaginavano certe voce a quel pensiero aggiungerò un pasto sentirei una tabellina formicolare nelle ditte in cui poterli impazzata una voce vestita di nero o un mondo dovrebbe essere un'altra applicazione avrebbe riferito una cosa al comitore dell'irregolarità ecco cosa avrebbe fatto l'idea si gli avrebbero lì indietro perchè ho paura di un tipo un sacco schierato ma con il genere di cose andava segnalato per quanto fosse partente e lo suo pregioso avere di cittadino avrei parlato di mia stanza e il suo frattore avrebbe rinunciato l'interimento e non senteva più non è sembrato sempre l'attento alla corsa si è davvero piccolato un quartiere più rimasto della città il ritmo della musica e proseguire le conversate arrivavano fino a lui negli un senso di sicurezza appassò la guardia grave errore salve come ancora spuggo da un piccolo laterale e chiesa per un pugno sul popolo da d'amore il padre Brams cercava di imprendere il fiato l'agressore incolpia le gambe con una posa in un pugno e un pugno e una brutale armi e un intercettino in cui gli altri avrebbero fagi l'atterrosse sono in casa di cavoli per l'interno dall'interno e dall'interno per caso la casa non è semplicio liberando un odore pestino e pesche di vetore e non rai il spino e invece erano più brevi dai sentiti difondri sul corpo il calore del ambiente e l'agressore di bainari e l'agressore no non è adesso devo chiedere il torpor ovviamente non ti le vieno a contare per la spiglia con questa canaviglia bainari e l'agressore erano e cruzata contro la sofferenza che non face parlare che risponde all'appello in suono delle terminazioni nervose ignorano la sua richiesta e dispensano il dolore pranzo per continuare a sarsi pescivoli e ricattare la bella pupuce del verde ma in composizione ora la figura nero sopra la figura sullo il dolore di il dolore se non il dolore di passato per usare non l'aspressione dell'eroportale per strutturare la straffa, le mie scuse e abuso di posizione dominante e di crimini multipli contro l'unità come usa, forse ha spretto la faccia chi sei tu per accusarmi se ti batteni tentativo di raccogliere le forze e inutilemente con il genere libera del surrealismo gli ammagellano la campagna di direzione e i muscoli insipoliti non chiedono di nessun aiuto penso che sappia che sono un'esercitazione per sentirti inutile neanche per idea che il tuo pranzo deciso a sottocargli la situazione ma il ragazzo nero mi riprende il tuo rispetto così forte che posso credere il cuore stesso per fermarsi ancora altri nariti ancora altri piacere la testa ligerata non l'aveva scelta doveva accendere il lucifero e il sansegimento deve essere un uccefere il pranzo si sente tutta la sua forza vitale perché come sarebbe il fatto di pronunciarlo tra l'altro poche avesse dato un corpo a linea fria soddisfatto e il giovane che sia un proclamato pace ha letto la pressione non sei una faccia o so dire pranzo se sono un apprendista il dito e non da fare il bracca il giovane non rispose a quell'affermazione e invece dichiarò questo termine le ha spingolato una giovane con il coltello questo non ti ricorda non mi guarda per fare un favore a un amico che voleva interrompere la ragazza del coltello è scandaloso non hai alcuna prova sostegna che stai dicendo è un'osservata giosa e un osservatore che è suo amico che tra l'altro è perso soltanto quando saputo che quella potrebbe interrompere se l'improvviso la ragazza tirava di un coltello su col in su coltello con il tapone un ragazza potrebbe stare per il braccio con il suo coltello è vero che la ragazza era tutta la ragazza non si preferiva morire o quasi di un piuttosto che la ragazza è tutta la ragazza con il suo coltello con la gola avanti potremmi la gola lo scritto perhaps sarà solo un microinjustificabile che vorrei chieda la gioia in fronte ultimo e quando darò un animato descriverò contro di te e vuoi giurarle non sfuggire la giustizia di nel tantre ho passato tutta la migliaia della stella corruente da una parte all'altra del continente e non ha inviato un solo ufficiale di pace a fermarmi perché secondo lei l'abso è rimasto senza parole sarebbe generato che se avesse avvenuto tempo intrattenuto il cosiddetto maestro il tantre avrebbe impiato una scuola per l'estero era questo un frattamento che il tantre riservava ai cittadini pericolosi però era un esempio che fosse andata avanti così tanto tempo quel genere di comportamento apparteneva al passato perché veniva permesso se ne sono una vita ora tanti sali impostori non verrai il mare bruciando tutti quelli che sono le fondole loro funzioni se ne lasciano un genere impossibile da animare non ti credo non lo sarà eppure Bramson ti credeva dal mese di gennaio quasi una decina di pagi che c'erano le meschere era bevita per le fiamme in circostanze poco chiare tutti dicessi erano stati dichiarati accidentali ma era evidente che non lo fossero e poiché i cori erano stati bruciati infanzi e morti erano irreversibili ora Bramson sapeva che le bugie che c'erano la proposta di un certo maestro che riscaldosi erano con te invece la pratica del caduto è tutta vera Bramson di chiusare gli occhi espirò un'ultima volta cercando di non soffocarlo per il tempore oggetto dell'apertura potretà non moriremo oggi maestro Bramson ti s'errore neppure temporaneamente gli aiutano l'alto 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 il l'alto l'alto l'ex o l'alto l'alto e l'alto Senti, aiutatevi rilanzarmi sullevarono un pranzo per giù con il testo di un strato color pesco e la macchina di verde per ruolo come se fosse ricoperto dal buco che umicazione mi vengono di spigolare la coppia perché nessuno poteva restare in piedi dopo perché sono scegolenti così menuzzi invece hanno colpito e invece loro facciarli concedendo entrambi una timurità disse che era la ricompensa della loro gentilezza per il tempo della persona che sarà il più presto possibile senza fare il dolore dopo che sarebbero rilandati si spazzolò la vista e mi chiese dire di raccontare il comitato dell'irregolarità a proposito di questo episodio per timore mi sarebbe spiegato a scherzarlo aveva già supportato troppe umiliazioni per essere una giovanezza per essere una giovanezza quinta di meno e non ci romano niente mi manerico e non prendi essa legata e non ti romandemi nella mia nubile eppure sapeva che laminate il ragazzo non arriverà da prenderla leggero forse una persona sorpresa sarebbe stato purtroppo mantenere un po' spruzione ritorno con quelle piccolature scelte e monotone che avevano giovenza e le regole in principio che facevano di un periodo maestro qualcosa di più di un titolo un tratto di stiglie della vocazione sporco con due freddo maestro pazzo torno a casa abilità su un problema per il punto perfetto in cui viviamo direi che questa lettura si può termina qui io spero che vi sia piaciuto che vi abbia rilassato se vi interessa meno ciò che l'immagine del libro a me sta piaciendo molto il libro è veramente veramente molto bello spero anche questo spero anche questo se io vorrei acquistarlo bene io vi auguro un buon proseguimento di relax ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video ciao ho qui ho 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 è segnale sigla che hay